Tornerà bella come un tempo nonostante i suoi 83 anni di vita in piazza Cairoli, nel cuore della città. La fontana delle ancore, dopo mesi di lavori, sarà riaccesa nel pomeriggio di sabato, nel corso di una piccola cerimonia alla quale prenderà parte il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. Snodo centrale del lavoro di restauro, quello dell'illuminazione, uno degli elementi più suggestivi nelle ore notturne. Il lavoro di restauro è stato concentrato sull'adeguamento degli impianti elettrici, che tra le altre cose ha comportato lo spostamento della cabina elettrica interrata nel vano tecnico sottostante la piazza, la bonifica dei locali interrati ad uso tecnico, il ripristino dei solai e la completa tinteggiatura degli ambienti. Oltre a questo sono intervenuti anche Enel, Energeco e Multiservizi, che hanno, secondo le proprie competenze, sostituito i 36 corpi illuminanti posti nelle nicchie intorno alla vasca della fontana, a cui hanno fatto posto lampade a led da 10 watt, così come gli otto faretti posti al centro delle ancore, rimpiazzati da proiettori a led da 20 watt. Per quel che riguarda il vano tecnico, sono stati sostituiti gli oblò, in vetro o antisfondamento, posizionati nelle nicchie intorno alla vasca della fontana. L'intervento ha compreso anche il restauro della struttura monumentale, che ha previsto la pulizia accurata delle parti in pietra, con impacchi di bicarbonato, la rimozione delle parti che mostravano degrado e nel sigillo di giunti e fessure che erano interessate da infiltrazioni di acqua e ancora nella stuccatura dei giunti e nella stesura di uno strato protettivo su tutte le superfici del monumento.